Dopo due mesi e mezzo di sosta ad Avellino, seppur in modalità Skype, si torna in consiglio comunale per parlare dell'emergenza Covid. In questa lunga parentesi l'opposizione si è più volte lamentata dell'azzeramento di un confronto che ha visto il sindaco Gianluca Festa prendere decisioni e avviare percorsi sulla base di scelte non passate per una doverosa discussione e condivisione. Una mancanza di democrazia rappresentata al prefetto Paolo Aspena e che ha portato, secondo il capogruppo di mai più Luca Cipriano, anche a mortificare la maggioranza e a svuotare l'aggiunta delle sue prerogative. Domani si torna in consiglio comunale, domani si parla di fase 2, si parla di ripartenza, di rinascita e per la rinascita serve innanzitutto un'operazione pulizia in città immediata, urgente, l'erba da sfalciare, le zone verdi, i parchi da riaprire, le ville comunali per poter portare i bambini e consentire un po' di attività motori e il campo coni da riattivare. Serve un'operazione di sostegno al commercio, in ginocchio, ancora chiuso, moltissimi sono ancora chiusi e riapriranno solo nel mese di giugno e qualcuno invece lo sta facendo con grande difficoltà. Servono incentivi sulla tassa per la spazzatura, sulla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, serve calmierare e bloccare se possibile i fitti dei locali commerciali. Per Cipriano indice puntato anche sul sociale che vive un impasse infinito che ha bloccato fondi e progetti. Poi servono incentivi sul sociale, c'è una vergognosa guerra tra sindaci e tra Gianluca Festa e gli altri componenti del piano sociale, del piano di zona per un'azienda consortile che non parte, servizi che non vengono erogati, troppa ambiguità, troppa poca trasparenza. Insomma sociale, commercio e vivibilità quotidiana saranno i primi step al centro di un dibattito che domani iniziamo in consiglio comunale sui quali tutti noi dell'opposizione faremo sentire fortemente ancora una volta la nostra voce.